Sono sbarcati questa notte intorno alle 2.49 immigrati tratti in salvo da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Rocella Ionica. Gli immigrati, tutti di sesso maschile, sono quasi tutti di nazionalità pakistana ed anche qualche seriano, tra cui ci sono sei minori non accompagnati. Sono stati rintrecciati a 40 miglia a largo di Rocella Ionica a bordo di una barca a vela sulla quale hanno navigato per quasi 5 giorni. Le condizioni di salute, dopo un primo accertamento dei sanitari, sembrano essere buone. Sul posto sono intervenuti carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato del commissariato di Siderno che sta provvedendo in queste ore all'identificazione, accolti e rifocillati dalla protezione civile di Rocella Ionica guidata dal presidente Mimmo Scalamandrè. Ora i 49 immigrati si trovano al centro di prima accoglienza situato a Rocella Ionica in attesa di essere trasferiti. Grazie. 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 Grazie.